Che giornata! Guarda quanta spazzatura! Ehi, mi stai coprendo il sole! Sto cercando di abbronzarmi! Senti che caldo! Mi sto sciogliendo! Cavolo, che lavoraccio! Wow, inizia a fare caldo! Non mi sento tanto bene! Aiuto! Nino! Nino! Abbiamo un'emergenza! Dottoressa deve aiutarla! Cos'è successo? C'era una gigantesca palla di fuoco nel cielo! Dottore, ho bisogno del suo aiuto! Faccia qualcosa! Non ditemi come fare il mio lavoro! Adesso basta così! Che bel pisolino! Ne avevo proprio bisogno! Ho fatto un sogno stranissimo! Meglio iniziare a prepararmi! Wow, caldino, eh? I miei poveri piedini! Cosa abbiamo qui? Diamo un'occhiata! Interessante! Wow, niente male! Farò alcune modifiche! Applicherò della colla sulla suola! Arriverò fino in fondo! Attaccherò un altro strato! E metterò un sandalo in cima! Venuto bene, eh? Ho sempre sognato di avere queste scarpe! Non vedo l'ora di provarle! Ecco fatto! È ora di fare un giro di prova! Dove le ho prese? Parigi? Milano? Sono così eleganti! Quindi ti piacciono? Le ho disegnate io stessa! Queste andavano l'anno scorso? Ho così tante scarpe! Proverò queste? No! Proprio no! Ah! Queste andranno bene! Ma, ehi! Dove sono i tacchi? È ora di andare a lezione! Uh! Oh! Spero che nessuno mi abbia vista! No, non può succedere! Non a me! Le mie scarpe sono rovinate! Oh! Me ne ero dimenticata! Che mondo crudele! Forse il mio rossetto mi tirerà su di morale! Aspetta un secondo! Questa potrebbe essere la soluzione ai miei problemi! Vale la pena provare! Augurami buona fortuna! Dovrò applicare la colla sulla suola della scarpa! La coprirò tutta! Dopodiché incollerò il rossetto proprio sul tacco! Vediamo come sono venute! Wow! Sono bellissime! Le mie amiche saranno invidiose! Ehi, guarda un po' qui! Wow! Le adoro! Sapevo, ti sarebbero piaciute! Sono due rossetti! Guarda! Cosa stai facendo? Quelle lezioni di yoga stanno dando i loro frutti! Sembra doloroso! Ma ne varrà la pena! Voglio essere perfetta! Le tue scarpe sono in grado di fare questo? No! E in un certo senso sono contenta! Possiamo accelerare un po'? E così abbiamo finito! Questo cos'è? Sai cosa fare? Ok, va bene! Realizzerò un'opera d'arte! Hai finito? Ah, ma cosa? Una cacca! Cresci! Mi stavo solo divertendo! Ti conviene risistemare tutto! Wow, sono ricca! È un piacere fare affari con te! Ha proprio la cosa giusta! Saluta il mio piccolo amico! Guarda qui! Lo aprirò! E lo preparerò! Sembra quasi un intervento chirurgico! Devo essere precisa! Questo pezzo lo mettiamo in cima! Ora posso chiuderlo! Premerò la testa! Adoro questa parte! Ecco, è per te! Lo metterò sulla tua fasciatura! Aggiungerà un po' di colore! Il mio lavoro qui è terminato! Oh, wow! È meraviglioso! Ma è fantastico, dottoressa! Grazie! Ho solo fatto il mio lavoro! E io? Riesci a sentire qualcosa? Può sistemare la mia benda! Certo, ma ti costerà un po'! Questo non ci voleva! Sono al verde! Bene, abbiamo un problema! Per favore, la prego! Deve esserci qualcosa che può fare! Oh, il mio lavoro non finisce mai! E va bene, diamoci un taglio! Utilizzerò questi post-it! Tutto qui! Come sei esigente! Ok, adesso li decoro! Avrei dovuto fare il veterinario! Non muoverti! Che emozione! Cosa stai disegnando? Non ho ancora finito! Utilizzerò il resto dei foglietti adesivi! Mi sento un artista! Ti piacciono i fiori? Wow! Wow, che bello! È incredibile! Sono troppo felice! Si accontenta facilmente! Sei un vero talento naturale! È l'ora della merenda! Vediamo cosa abbiamo qui! Un giornale! Non posso mica mangiarlo! Cosa ho in tasca? Non molto! Non ci siamo! Che delusione! Almeno ho qualcosa da leggere! No, non va affatto bene! Aspetta! Ah, no, è robaccia! Ehi! Chi è che mi tira le cose? Oh, dovrò trovarmi un nuovo cassonetto! Dunque, dove ero rimasta? Oh sì, ho bisogno di soldi! Qualcuno aiuto! Ho un'idea! Ecco, ti prendi! E ricorda, non mi hai mai visto! Ok, ma che strano! Cosa ci sarà qui dentro? Wow, non ci posso credere! Che cos'è tutto questo rumore? Aspetta un attimo! Non ho delle monete da darti! Puoi avere questa! Wow, non ci posso credere! Funzionerà! Oggi sono proprio fortunata! Che diavolo! Ma sul serio! E io! Eh, salve a lei! Sta bene? Ho un po' di tosse! Oh no, poverino! Devi andare in ospedale! Cosa? Sono ammalata anche io! Senti! È proprio necessario! Non voglio farlo! Ok, chi è il prossimo? Io! La prego! Entrate entrambe! Ok, missione compiuta! Wow! Dove mi trovo? Wow, sto proprio bene! Cosa sta succedendo? Che spettacolo! Wow! Amo i diamanti! Ma l'arredamento... Oh, deve andare! Oh, dottoressa! Venga, per favore! Sì? Qualcosa non va? Tutto questo deve andare via! Ci penso io! Avrò bisogno di qualcosa di speciale! Facciamolo! Non ci vorrà molto! L'oro aggiungerà un po' di scintillio ed è esattamente ciò che voglio! Wow, è bellissimo! Penso che così vada bene! Wow, è perfetto! Oro grattugiato! Andrà sulla parete! Wow, che bello! Così va meglio! È più il mio stile! È perfetto! Ho qualcosa per te! Te lo sei meritato! Oh, ma non dovevi! Che gentile! Wow, ma è... Wow! Vorrei avere dell'oro anche io! Ehi, dottoressa! Devo andare! Il dovere chiama! Ho bisogno del suo aiuto! È uno scherzo? Costo molto di più! Ma forse so come aiutare! Ho questa cartella! E che ci faccio? E questi sono tutti miei! Addio! Addio! Devo piegare per formare un anello! E incollerò le due estremità! Voglio creare una catena! Ecco come deve venire! Wow, che meraviglia! Wow! Ha fatto tutto da sola! Io non ho niente! Un arcobaleno sulla parete! Aspetta! Quello cos'è? Un pulsante misterioso! Lo premerò! E adesso? Non ci posso credere! Sto sognando o cosa? Wow! Ma è fantastica! È un po' banale! Ah, ci sono! Posso usare questo cartone! Devo fare delle pieghe! Sono bravo a fare l'origami! È un ottimo inizio! Avrò bisogno di una penna! Ci disegnerò dei triangoli in questo modo! Ora lo girerò! E devo ritagliarli! Deve solo seguire le linee! Un piccolo taglio qui! E si continua fino alla fine! Non voglio fare errori! È venuto benissimo! Non male! Lo appenderò sulla mia casa! Ci sta proprio bene! Ora aggiungerò un po' di colore! Inizierò con la vernice! Mi sento così artistico! Dovrei essere un artista! Finora tutto bene! Ora lo riempirò! E adesso? Ah, io lo so! Aggiungerò del verde scuro! Sta prendendo forma! So cosa fare dopo! Non ho bisogno del guanto! Questo è un lavoro manuale! Dipingerò con la mia mano! Mi fa il solletico! Ma ne varrà la pena! Ci saranno dei bellissimi petali di fiori! Ci siamo! Voglio continuare ancora! Wow! Funziona! Cosa sta facendo? Stai vedendo anche tu! Che cosa c'è? Dei fiori bellissimi! Mamma natura ne sarebbe orgogliosa! Che bello! Oh, che bravo! Era esattamente la reazione che volevo! Questi fiori hanno un buon profumo! Beh, anche io ho dei fiori! Io invece puzzo... Da morire! Oh, forse questo profumo... No, niente! Oh, oh! Eh... E ciò! E ciò! Le mie allergie! Non è giusto! Ma ho un'idea! Sarà fantastico! È ora di mettersi al lavoro! Srotolerò la carta igienica! Ho bisogno di un pezzo sola! Ora la taglierò! Così va bene! Ora devo darle la forma giusta! La rotolerò... Delicatamente! Non voglio strapparla! Ora pizzicherò la base! E ci avvolgerò un altro pezzo intorno! Voglio creare diversi strati! Aggiungerò un altro pezzo! Così sarà sufficiente! Sembra una rosa! E non sto starnutendo! Aspetta un attimo! Mi è venuta un'idea! Posso decorare la stanza! Metterò il fiore su questo albero! Ne aggiungerò degli altri! Sta venendo benissimo! Questo è l'ultimo! Wow! Sono così felice! Ma di che cosa stai parlando? Eh, niente male! Qualcuno qui è geloso? Non credo proprio! Ah, di solito funziona! Va bene, userò la campanella! Ehi, ma non viene! Ahem! Sto aspettando! Ah, mi arrendo! Devo farlo da sola! Utilizzerò questo hula hop! Devo aprirlo! Questa è la parte facile! Ora ho bisogno di un tubo galleggiante per piscina! Lo infilerò al hula hop! Fino ad arrivare dall'altra parte! Poi chiuderò di nuovo l'hula hop! Ora posso decorarlo! Attaccherò i fiori sul tubo! Voglio che sia del tutto ricoperto! Meno male che ha un sacco di fiori! Sarà bellissimo! Mi sto davvero divertendo un sacco! Che bello! Questo lo metterò proprio qui! Ecco fatto! Wow, è incredibile! Guarda un po'! Wow, non ci posso credere! È un'opera d'arte! Lo appenderò proprio qui! Potrei fissarlo per tutto il giorno! Come posso competere con quello? Che cavolo! Il tetto perde! Ci mancava solo questo! Ecco, forse ho trovato! Ci siamo! Wow, sono proprio bravo a creare! Sta venendo bene! Oh sì! Ora va molto meglio! Il mio riparo dalla pioggia! Guarda un po'! E cos'hai fatto? Figo, vero? Sì, mi piace! Ma preferisco il mio! Mettiti comodo! Il mio esperimento può iniziare! Dove sono le forbici? È l'ora dello spettacolo! No! Smettila di lamentarti! Non ho ancora finito! Oh, la mia testa! Che male! Questo è un buon posto dove mettere i soldi! Sì, adoro questo odore! È meraviglioso! Ahia, il mio dito! Che male! Forse questo aiuterà! I diamanti fanno sempre sentire meglio! Perché ci mette così tanto? Non ho tutto il giorno! Cos'è questo rumore? Ma è una bambola! Da dove arriva? A me non dispiace averlo trovato! Ora ho un nuovo amico! Ma di che cosa parla? Guarda laggiù! E se le prendessimo? Sì, perché no! Io amo le bambole! Ok, sono tornata! Ma dove sono andati? Sono scomparsi! No, il mio esperimento è rovinato! La mia bambola è così carina! Quelle sono le mie bambole! Cosa? Avete rubato le mie bambole! Le rivolgo indietro! Ma adesso sono nostre! Ridatemele! Ah, che strazio! Vi farò vedere io! Una giornata dedicata al benessere! Avrei bisogno di qualche trattamento! Guarda come sto ridotto! Insomma, quanti peli! Mi merito di meglio! Che spettacolo! Ma è solo un sogno! Aspetta! So cosa fare! Farò da solo! Quanto può essere difficile? Ai, che dolore! Aspetta! Guarda la mia bambola! Anche lui è ridotto male! Ha bisogno di qualche trattamento di bellezza! Wow, quanti peli! Ma non ti depini! Sembri una scimmia! Stai fermo adesso! Farà male! Ci siamo! E questa è andata! Che schifo! Ok, è ora della ceretta! Preparati! Una gamba è fatta! Passiamo all'altra! Pronti? Via! Come va? Sei bello e liscio! Wow, non ci credo! Mi devo mettere gli occhiali da sole! Adoro le maschere all'oro! La mia pelle sarà splendente! Lascerò che faccia la sua magia! Non ci siamo affatto! Ragazza, guarda i tuoi denti! Dobbiamo fare qualcosa! Stenditi qui! Mi occuperò io di te! Ci sono! Avrò bisogno di un pezzettino! Lo applicherò sui tuoi denti! Ti piacerà? Avrai i denti bianchissimi! Molto meglio! Stai benissimo! Cosa? Ma la vedi anche tu! Guarda un po'! Noti qualcosa di diverso? Aspetta, non va bene! Hai bisogno di un restyling! So cosa fare! Fidati di me! Ho bisogno di una pistola a caldo! Ne applicherò un po' qua! E ora devo solo aspettare che si solidifichi! Adesso mi serve della vernice! Questo colore va bene! La applicherò sopra la vernice! Si abbinerà al colore della pelle! Devo ricoprire tutta la colla! Penso di aver fatto! Fammi dare un'occhiata! Wow! Incredibile! Siamo gemelle! Ho fatto un ottimo lavoro! Ehi! Occhio! Che figura! Ups! Ma cosa ti è successo? Sono esplose! Non mi serve più! Wow! Che buffa! Facciamo finta che non sia successo niente! Ahah! Sì, certo! Dovremmo incontrarci! No, ma dai! Ciao, mamma! Aspetta un secondo! Cosa c'è per cena? Tesoro, no! Aspetta, ho dimenticato qualcosa! Ci sono! Meno male per un pelo! Dobbiamo usare questo! Lo metterò intorno alla porta! Niente più incidenti! La cena è quasi pronta! Pronto? Ci sei? Che libro interessante! Sto facendo un bel disegno! È un capolavoro! Sono soddisfatta! Oh, so cosa potrebbe renderlo migliore! Un adesivo! Sarà fantastico! Ne aggiungerò altri! Guarda quanti arcobaleni! Wow! Questo è fantastico! No, anzi, è meraviglioso! Che ne pensi? È bello, vero? Cosa? Oh, tutti critici! Ma penso che tu abbia ragione! Forse sono troppi! Non si stacca! Oh, la mia unghia si è spezzata! Mamma, abbiamo un'emergenza! Che succede? Stai bene, tesoro? Possiamo smettere di urlare! Devo fare qualcosa! E credo di sapere cosa! Mi serve una foglia! Fa vedere! Ok! Fidati! Poggio la foglia sull'unghia e taglio! Bene! Copro con lo smalto e aggiungo dei brillantini! Questi glitter sono perfetti! Che te ne pare, eh? Wow! È bellissima! Mi piace! Fai anche le altre? Va bene! Ferma così! Mi sento come una modella! Sapevo, ti sarebbe piaciuto! Dove ero rimasta? Mamma, mi controlli il disegno? Ok, fa vedere! Finalmente la serata cinema! Questo sembra interessante! Guarda là! Oddio! È il mio dente! Mamma, abbiamo un problema! Stai bene? Credo di essermi rotta un dente! Dovrei chiamare il dentista! Aspetta, è il dentista! Qualsiasi cosa? No, il dentista no! Mi fa paura! Apri bene! No, per favore! Cosa? Perché? È terrificante! Ora che lo dici, lasciamo stare il dentista questa volta! Aspetta, ho un'idea! Posso usare questo! Sul serio? Lo facevo da bambina! È abbastanza semplice! Allaccio un'estremità alla porta, poi mi avvicino e leggo l'altro capo al tuo dente! Deve essere bello stretto! Ora potrebbe fare male! Ah! Che ne pensi? Ah, fammi pensare! Sembra piuttosto doloroso! Ah! No, assolutamente no! Non se ne parla! Stai indietro, mamma! Dico sul serio! Stavo cercando di aiutarti! Che altro possiamo fare? Aspettacelo! Ho una bella mela croccante! A che serve? Sono intrigata! Dà un morso! Ok, ci proverò! Aspetta! Credo che abbia funzionato! Sei un genio! Guardalo! Grazie, mamma! Yey! Questo lo terrò per la fatina dei denti! Ci vediamo? È adorabile! Diventerò ricca! Che emozione! Te lo meriti, tesoro! Che bellissima giornata! Non ci credo! Guarda, mamma! È un orsacchiotto? Sì! Posso tenerlo! No, che schifo dai! Ti prego, mamma! Ok, ma ha bisogno di un bagno! Diventeremo migliori amici! Questo è il giorno più bello di sempre! Sì, andiamo! Questo orsacchiotto ha bisogno di un restyling! Siamo pronti! Non so come abbiamo fatto, ma ok! Dammelo! Ci vorrà un po'! È messo proprio male! Bleh! Un insetto! Ma che ti è successo? Anzi, non voglio saperlo! Pensiamo a sistemarti! Finora tutto bene, dammi le pinzette! Rimettiamo a posto l'imbottitura! Che tensione! Non voglio fare errori! Non posso deludere Gina! Penso che ci siamo! E passami ago e filo! Ecco qui! Sei un'infermiera fantastica! Ricuciamo tutto! Un'altra operazione perfettamente riuscita! Ecco a te, Gina! È come nuovo! Wow! Sono così felice! Wow! Fantastico! Ho un nuovo animale preferito! Le volpi sono troppo carine! Ciao, tesoro! Ho il tuo porridge! È bello denso! Sembra disgustoso! Non lo voglio! Cosa? È delizioso! Su, provalo! Mai! Gina, devi mangiarlo! Apri! No, portalo via! Ecco l'aeroplanino! L'aeroporto è chiuso! Che ne dici di qualche caramella? Oh, pensavo avrebbe funzionato! Voglio solo guardare le volpi! Questa è adorabile! Che cos'hai lì? Mi è venuta un'idea! Sì, potrebbe funzionare! Ehi, Gina! Guarda che cosa ho qui! Una ciotola con una volpe! Hai detto volpe, dammela! Wow, guardala! Cosa? La volpe se n'è andata! Oh no, che peccato! Dovrei mangiare il porridge! Come? Dimmelo, mamma! Ecco un cucchiaio! Ti troverò, piccola volpe! Porridge! Sta funzionando! Devo andare avanti! Non posso credere che lo stia facendo! Ricorda di mangiarlo tutto! Quasi fatto! Ho odiato ogni boccone! Ma almeno adesso posso vedere la volpe! Guarda, mamma! Brava, tesoro! Sono fiera di te! Ah, è così rilassante! Ne avevo bisogno! Ciao, mamma! Divertiti! Oh, guardala! Si sta divertendo tantissimo! Adoro la neve! È incredibile! Adoro vederla felice! E io posso prendermela con calma! Potrei abituarmici! Non ho mai tempo per me! Chissà come sta Gina! Meglio che vada a controllare! Gina, dai, entra! Aspetta! Voglio provare una cosa! Prenderai un raffreddore! Mi sto divertendo! Altri cinque minuti, mamma! Ok, che siano cinque però! Che pacchia! Uh, altro tè! Perché no? Questo film è fantastico! Oh, Gina, vieni! Non mi sento bene! Oh no, fa vedere! Aspetta, vieni! Devi sdraiarti! Ecco una copertina! Oh, mi sento malissimo! Ah, ciù! Che ne dici di un po' di medicina? No, fa schifo! Portala via! Ma ti aiuterà a sentirti meglio! Non mi interessa! Sono Marshmallow? Eh? Eh, sì! Aspetta! Credo di avere avuto un'idea! Mettiamoci al lavoro! Riempio il Marshmallow con il medicinale! Non se ne accorgerà mai! Sono troppo furba! E così starà meglio! Dammi, dammi! Mmm, buono! Davvero buono! Sono contenta, ti sia piaciuto! Ora riposa! Va bene! Sei bellissima! Barbie volante in avvicinamento! Cos'è questa puzza? È fumo! Precipitiamo! Piano, piano! Oh, mamma mia! Da dove è sbucata? Non ha una bella cera! Stai bene? Caspita! Mi è venuta un'idea! Ah? Non sapevo fossi dottoressa! Rimettiamo in sesto questa bambola! È qui l'ospedale? Perché sto cercando lavoro! Ci sono! Ci sono! Gol! E vai! Che cosa hai fatto? Chi se ne frega! Ci vediamo! Che crudeltà! Voglio stare in pace! Oh, la mia vita! Oh no! Chi ha lasciato una Barbie? È una dottoressa! Quanto è cool! Un ospedale! Oh! È stato distrutto! Lascia fare a me! Perfetto! Il tuo kit di pronto soccorso! Ok! Non ho finito! Ta-da! Qualcuno ha un'emergenza? Arriva la dottoressa Barbie! Vedi? Qualcosa non va proprio! Oh! Farò io la nostra ambulanza! Ma non è un'ambulanza qualunque! È un'ambulanza Barbie! Il che significa rosa a profusione! Ancora qualche pezzo e ovviamente... Altro rosa! Il cartone marrone è vietato! Migliora di secondo in secondo! Diamo un restyling alle ruote! Carina, vero? La plastilina rosa vince! Ma serve un posto dove far sedere Barbie! Vada per un paio di sedili! Belli! Ed ecco è anche il cruscotto! Ci siamo quasi! Misura perfetta! Oh! Che carini! Lo sportello funziona davvero! E gli accessori sono perfetti! Perfetti! Ma cos'è un'ambulanza senza luci di emergenza? Così la gente saprà che stiamo arrivando! Bene! Questo in cima! Serve anche una targa! Oh, che carina! Perfetto! Ma all'interno invece? Deve essere rifornito di tutto l'occorrente! È un frigorifero per conservare le medicine! Mi preparerò ad assistere i passeggeri malati! E ora sono pronta a tutto! Bip bip! Sto passando! Wow! Diciamo che è un test drive! Divertiti! Oh, ciao Betty! Cos'è quello? Robe mediche? Puoi spiegarmi? Con piacere! Il tuo outfit non è proprio da dottoressa! Lo sistemerò! Mi serve solo una mascherina! Senza i lacci per le orecchie! In realtà, voglio soltanto il tessuto nel mezzo! Ecco qui! Ora appiattisco il tessuto e poi lo piego così! Rimani ferma, Barbie! Sto per delineare il tuo corpo! Vestirai su misura! Basta collegare queste linee qui! E disegnarne altre in fondo! E ora di ritagliare! Cerco di rimanere nei bordi! Evviva! Ne manca soltanto uno! Una volta finito, faccio un taglio nell'angolo e uso una spillatrice per tenere fermi i lati! Proprio così! Ora lo giro al contrario e... Ecco il blu! Taglio sul retro così e adesso la infiliamo! Ora Barbie ha il camice! Uso il rosa per i piccoli dettagli! Ecco la dottoressa Barbie! Fantastico! Ora ha l'outfit perfetto! Adoro questo look! Ah, Betty? Me la presteresti? Ho un'idea! Hai un'altra mascherina per caso? Mi sbarazzo di questi lacci e poi taglio tutto lungo il centro Poi li giro Quindi li sovrappongo così e resta ferma lì! Indossalo, Barbie! Ti piace? Ti ricordi della cannuccia? Userò soltanto la parte pieghevole Diventa la cintura perfetta! Collego le due estremità e colla a caldo il rapporto! Ciao, bellezza! La dottoressa è pronta a lavorare! Ti piace? No, lo amo! Wow, li hai fatti tu! Sono favolosi! Sì, lo so! Wow, buffa questa roba! Ehi! Cosa? Non dovrebbe avere le scarpe? Ah, mi sa che hai ragione! Ma come? So cosa fare! Il cioè in gamme è modellabile! Otterrò la misura perfetta! Ta-da! Carino, immagino! Ma la plastilina... Ora ci penso io! La plastilina è perfetta per modellare! Infila il piede, Barbie! Ora farò un paio di modifiche... Perfetto! Faccio dei fori per l'aria... Quei piedini non devono sudare! Ancora un paio... E ora creo le suole! Queste scarpe sembrano sempre più vere! Sì, proprio così! Hai del filo? Taglio un pezzetto con le pinze... Poi lo piego a forma di U... Fungerà da retro della scarpa! Sono ben salde! Come le scarpe dei veri medici! Allora, ti piacciono? Sono perfette per Barbie! Super carine, vero? Come quelle dei veri medici! Non sono comode da indossare, Barbie? È come camminare sulle nuvole? Wow, fantastico! Ben fatto, ragazza! Una dottoressa alla moda! Sono perfette! Ho un'idea! Tienila! Ogni dottore necessita di strumenti... Come una siringa! Vedi? Sembra troppo grande! Che ne dici di questa qui? No, tutte troppo grandi per lei! Questa? Non riesci a tenerla! Fammi pensare! Deve esserci qualcosa che possiamo utilizzare! Una graffetta? Non so che farne! Ehi, un attimo! Ho un'idea! Al lavoro! Mi serve soltanto questo pezzettino! Poi, la colla a caldo! Ecco! Infilo qui! Prendo la graffetta... Stacco solo un pezzettino, eh! E poi prendo un pezzetto di gomma piuma nera! Ecco il filo! Lo inserisco in quel tubo trasparente... E metto l'altra estremità nella colla così! La tengo con la pinza mentre la dipingo... Ed ecco qui! Le linee di misurazione! Come una vera siringa! Niente male, vero? Ok, dottoressa! Wow, sei pronta! La siringa punge! Oh, sei malata? Quindi? Ok, fai finta di pungermi! No, no! Faccio sul serio! Torna qui! Non ti senti bene? La dottoressa Barbie si occuperà di te! Ti basta chiamarla! E in un attimo lei sarà lì! Vorreste essere in questa ambulanza... Ed essere curati dalla dottoressa più favolosa al mondo? Beh, sì! Con scarpe cool! E pensare che abbiamo fatto tutto da zero! Niente ospedale, niente problema? Abbiamo tutto ciò che ci serve, in effetti! Non abbiamo tralasciato alcun dettaglio! Quando sei qui, sei in ottime mani! Resisti, ragazza! Starai subito meglio, vedrai! Fidati, sono una dottoressa! Non puoi stare senza trucchi! Allora ascolta bene, ti diremo come fare per intrufolarli ovunque! Devo finire prima che entrino gli studenti! Un tocco di colore non fa mai male! E ha anche un buon odore! Buongiorno! Niente trucco! Olivia, dovresti saperlo! Le regole non valgono per i prof, eh? Non è giusto! Odio questo posto! Ora che c'è? E quello com'è finito lì? Cos'altro ci potrei mettere? Olivia, sei tornata? Cos'hai in testa? Si vede! Oh, ma che cavolo! Giorno! Mi fai un favore? Um, ok! Bene! Cosa sta succedendo laggiù? Non hanno dei trucchi, non è vero? Tranquillo! State nascondendo qualcosa? Ma ovvio che no! Bene! Non vedo niente di strano! C'è mancato poco! Qualcuno sa la risposta? Mi interessa di più questo! Nessuno? Oh! Oh! Ma cosa è successo? Ups! Colpa mia! Leo? Perché hai le labbra colorate? Ehm, boh! Le piacciono, eh? Beh, no! Toglitelo subito! I ragazzi! Mi dispiace! Non riesco a credere che devo stare a letto! Povera Olivia! So io cosa ti farà stare meglio! No! Hai fame? Beh, so che il tè ti piace! Non sono dell'umore! C'è soltanto una cosa da fare! Questo sì che ti farà ridere! Ma non sono forte? No! E se le maracas sparissero? Voglio i miei trucchi! Oh! Ci sono! E... Semi di lampone! Giovanotto, fermati subito! Niente trucchi! Sul serio? Ok! Come si scrive appendicite? Sei tornato? Cosa ci sarà sotto quella frangia? Bel tentativo! Oh! 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 È carino, vero? Vai avanti! Sono tornato! Un orso? Non è solo un orso! È speciale! Aspetta un attimo! Ma sei fuori di testa! Oh! Leo! Dietro di te! Ahem! Quella la prendo io! Accidenti! Mi sono pure impegnato! Questo gioco è un ottimo passatempo! È così divertente! Credo proprio che sto vincendo! Salve! Scusi? Ma non sa leggere? Sul serio? Fuori! Le piace giocare, eh? Ci penso io! Salve! Che gioco è quello? Posso? Posso? Ehm... Certo! Figo! Ma questo coso è pieno di trucchi! Mi ammazzerò! A dopo! Voglio solo vedere il film! Aspetta! Ma certo! Sono tornata! Ahem! Solo uno, grazie! Braccio rotto? Anche a me è successo! È terribile! Buon divertimento! Ah! Che profumo! Olivia, dov'è? Ce l'hai fatta! Che carino! Ma fa male! È finto! Grande! Wow! Ma cosa pensi nasconda lui lì dentro? Beh, ora lo scoprirò! Ehi! La gamba! Qualcuno mi aiuti! Ha dei dolci! Signorina? Adesso se ne deve andare! Ok! A dopo, Leo! Beh, poteva andare peggio! Oh, le mie labbra! Mi serve un po' di lucido! È ora di fare un bel viaggio! Adesso hai abbastanza tempo per leggere il libro! Ma com'è bello qui! Non ti dispiace, vero? Ancora un paio! Vediamo cosa abbiamo oggi! Codice trucco! Codice trucco! Oh, voi! Fermatevi subito! Sacchetto rosa! Eh no! Non credo proprio! Ma è tutto nuovissimo! Ma quella è polvere! Adesso luccica! Fermi! Quello cos'è? Nulla mi sfugge! Adesso rimani ferma! Ma che ansia! So perché sei in ansia! Adesso chiamo il mio superiore! No! Andiamo via! Amo il mio lavoro! Un altro passeggero? Wow! Che tipa! Gli piacciono le modelle, eh? Beh, allora le avrà! Possiamo salire a bordo! Grazie mille! Cos'è stato? Wow! Mi ero dimenticato di averlo! Non va bene! Fuori! Adesso! Che giornata! Permesso? Grazie! È ora di truccarsi! Il mio volo! Dì alla mamma che mi mancherà! Dovrò imparare il francese! Ma almeno sarò truccato! Per quanto dovrò rimanere seduta qui? Non ho fatto nulla di male! E perché lei ha dei trucchi? Io sono un mostro! Devo chiamare Leo! Chissà dov'è Olivia! Ma è lei! Una foto con dei trucchi! La mia palla! Leo! Ho ricevuto il messaggio! C'è nessuno in giro! Eccoti! Sei il mio eroe! Non credo proprio! Ma ero così vicino! Oddio! Non riesco a disegnare! Ma è Leo! Ecco come ci si camuffa! Ma si crede invisibile! Il ragazzo è fuori di testa! Giovanotto! Pensi che io sia cieca? Rovina sempre tutto! Certo! Certo! È tornato! Ma certo! Ovvio! Ma non sta parlando con nessuno! Accidenti l'ombretto! Ma sul cucchiaio ha del rossetto! Non ne fa mai una giusta! Quasi! Posso avere almeno uno snack, no? Sì! Immaginavo! Prendi! È il rossetto! Come sto? Ti adoro! Ti adoro! Devo tornare dentro! Adesso sì che sto bene! Ok! Vediamo i riflessi! La mia gamba è fuori controllo! Wow! La sua gamba è impazzita! Gamba! Calmati! Mi aiuti a rimetterla giù! Beh, sembra che i riflessi siano in ottima forma! Ah! Il pollice! Sì, sì, so che fa male! Ecco, qualche dolce ti tirerà su di morale! Ma cos'è? Cioccolato? Non è permesso in ospedale! Avanti, vediamo il tuo pollice! Ma perché questa sedia non si muove? Ricordati di me quando non ci sarò più! Avrei voluto tanto darglieli! Chissà se posso intrufolarli in qualche modo! Sto solo lavando a terra! Ehi! Ma cos'ha nel secchio? Lo porti subito via di qui! No, non funzionerebbe! Forse potrei... Wow! Balla bene! Aspetti, si fermi! Niente dolciumi! Già, non funzionerebbe! Aspetta, ce l'ho! Quanto ho? Ehi, forse potrebbe farmi passare! Wow! Quanti soldi! Ehi! Non ho detto che puoi entrare! Eh no, rimarrei anche senza soldi! Non so cosa inventarmi! Sì? Cosa? Arrivo subito! Non può essere! Mi ha appena dato la soluzione! Ehi! Questa roba è dell'ospedale! Dall'odore sembra così! Porti via quella roba e entri! Wow! Che odoraccio! Ehm... E lei che sta guardando? Ehi! Guarda cosa ti ho portato! Cosa? Ma che odoraccio! Lo so! È così che l'ho intrufolato! Ti servirà un cucchiaio! Fidati! Ehi! Questo cos'è? Alla fine mi hai portato il cioccolato! Oh no! Nascondilo! Come si sente? Ha mangiato qualcosa? Che cavolo! Ma fa schifo! Uh! Beh! Non ha tutti i torti! Io ho altri pazienti da visitare! E ora come faremo a tirarlo giù? Posso provare a saltare! Fermati! È così che ti sei fatto male al pollice! Tu aspetta qua! So io cosa fare! Cercherò di prenderlo con la scopa! Più verso sinistra! No! La tua sinistra! Oh! Non ha funzionato! Proverò con qualcos'altro! Oh! Il pollice! Sbrigati! Ah! Che cosa sta succedendo? Beh! Sto solo facendo stretching! Mantenersi in forma rende sani! Che cosa? Sei stata tu! Non è vero? Ti ho portato un fiore! Sì! Beh! Grazie! Ma cosa stai guardando? Io voglio questi! Dei dolciumi! E dai! Ehi! Ho sentito dire che sei tu la persona dei dolci! Ho una vasta scelta! Cosa ti serve? Voglio tutto! Questi bastano! Che noia oggi! Oh! Salve! Che cosa ha lì? Niente! Solo il mio telefono! Beh! Adesso verificherò! Fa un po' caldo per un giaccone! Ah! Dolci di contrabbando! Forse riesco a passare qui sotto! Veramente pensava che non l'avrei vista? Correrò così veloce che non mi noterà! Wow! Come corre! Sta andando verso la porta! Ma non è abbastanza veloce! Ce l'ho fatta! Ecco la porta! Ehi Flash! Non credo proprio! Veramente credeva che avrebbe funzionato? Mi scusi! Sono qui per vedere un'amica! Sul serio! Evviva lo skateboard! Oh mio Dio! Mi dispiace! Dolci per te! E dolci per te! Ma dai! Il mio preferito! Non mi sono dimenticato di te! Sì! Lecca lecca! Quelli che volevo! Occhio! Aia! Si sarà fatto male! Accidenti! Vorrei dei noodles! Ehi! Guarda queste foto! Deve essere disperata! Adoro le patatine fritte! Salve! Come posso aiutarla? Sono qui per vedere un'amica e far vedere i miei muscoli! Oh wow! Sì beh! È in forma! Le dispiace se... Tocco i suoi addominali! Eh? Perché sono croccanti? Ehi! Ma non sono addominali! Se ne vada subito con quei noodles! Cavolo! Pensavo avrebbe funzionato! Ehi! Una rivista! Ma dai! Certo che potrei farlo! Mi scusi! Sono qui per l'ora delle visite! Ma quelli sono... I suoi capelli? Ehi! Hai i noodles in testa! Maledizione! Sto ancora pulendo quelli di prima! Sì! Come ha detto lei! Cosa? Ma è ancora qui! Sospetto il tipo! Ehi! Ho provato di tutto per portarti dei noodles! È l'ora della cena! E stasera ci sono i noodles! Ma dai! Io che ho faticato così tanto! Sì beh! Puoi andare! Ecco qua! Un bel bicchiere d'acqua fresca! L'acqua è così noiosa! Vorrei avere una bibita gassata! Sì beh! Ok! Ti aiuterò io! Ma perché non funziona? Ehi! Dove crede di andare? Ah! Ma non è giusto! Oh mio Dio! Quelle siringhe sono la soluzione! Ok! Ora devo mettere in atto il mio piano! Ma prima devo andare in bagno! Wow! Ma c'è una bibita gassata proprio qui! Non dispiacerà a nessuno! Figo! Una bibita gratis! Oh! Voglio una bibita gassata! Ehi! Ma cosa sta facendo? Che cavolo! Le bibite sono sparite! Beh! Quasi! Forse può ancora funzionare! Salve! Devo consegnare delle medicine! Ma certo! Faccia pure! Ehi! Sono io! Cosa sono? Non voglio nessuna puntura! Bibite gassate! Come mi hai chiesto! Apri! E quella grande è per me! Visto il mio duro lavoro! Che buona! Dunque! Il paziente come sta? Apra la bocca per favore! Ha introfolato una bibita! Aia! Il piede! Anche lei! Mi dia questa! Una bibita gassata in una siringa? Infermiera! Venga con me! Ora è nei guai! Wow! L'abbiamo fatta franca! I restyling possono essere di tutte le forme, dimensioni e prezzi! Qual è stato il tuo momento preferito? Scrivilo nei commenti qui sotto! Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo!